Domenica 5 maggio, Sant'Angelo da Gerusalemme, è il 125esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 240 al termine. Il sole sorge alle 5.54 e tramonta alle 20.22. La luna si leva alle 6.35 e tramonta alle 20.51. Un decreto del maggior consiglio ordina. Tutti quelli che hanno feudi o altre grazie ricevute dai comuni o persone forestiere non possono star nei consigli quando si tratteranno negozi spettanti a detti comuni o persone. Le previsioni per domani. Residua variabilità con nubi più presenti nelle prime ore, associate a probabili modeste precipitazioni sparse più probabili a sud-est, maggiori spazi di sereno in seguito. Vento a tratti ancora significativo in montagna, temperature minime in calo e raggiunte generalmente alla sera, massime in aumento.